Buongiorno a tutti, sono Luca Lamantia, SES di Vumi Networks, ci troviamo allo stand di ISEE 2020 dove presentiamo le nostre innovazioni del settore Digital Signage. L'innovazione presentata quest'anno è relativa alla soluzione Jade Booking che permette attraverso una piattaforma cloud totalmente integrata con la nostra soluzione Digital Signage di gestire le presentazioni delle sale e riunioni. All'interno della funzione Jade Booking è anche totalmente integrabile con la piattaforma del nostro CMS Jade dove all'interno di un'unica piattaforma è possibile gestire sia la prenotazione di Digital Signage sia la gestione delle sale e riunioni, quindi anche una piattaforma dedicata per l'analisi e il controllo delle sale disponibili con tutte le feature disponibili all'interno. Inoltre la funzione Booking permette in una funzione innovativa di controllare anche la parte hardware e di conseguenza gestire anche una sorta di automazione basic che può essere necessaria all'interno delle sale conference che si vanno poi a prenotare attraverso Jade Booking. E di conseguenza attraverso una prenotazione può switchare su una determinata porta per avviare la riunione che deve essere poi avviata attraverso la prenotazione appena fatta. Tutto questo poi è collegabile e gestito dal CMS Jade che è il nostro cavallo di battaglia, il nostro prodotto di punta dove le principali release sono la versione retail per il mondo dei negozi, dove all'interno c'è un'integrazione con i social network, le prices automatiche, le product list automatizzate, un editor grafico totalmente aperto per una progettazione spinta anche da un punto di vista grafico e totalmente integrato con il mondo della grafica quotidiana, del mondo del vettoriale. Poi dall'altra parte abbiamo la versione enterprise che giustamente permette per il mondo delle produzioni, quindi Indusa 4.0 o per il mondo degli uffici, quindi per tutte le aziende corporate, di utilizzare una piattaforma univoca per gestire dal welcome al cliente all'ingresso, agli uffici call booking, alle sale riunioni, alle produzioni magari che hanno poco distante e a tutta la gestione quotidiana anche dei dati che devono essere sempre disponibili a parte delle aziende, visualizzarli, andarli a pescare dei vari repositori che questa è una disposizione.